I cuculi e le cucupe sono dei dolci tipici pasquali calabresi. A seconda del luogo in cui vengono preparati possono essere chiamati collure, collure eccetera. Ingredienti per due cuculi e una cucupa da 18 centimetri. 3 uova, 150 g di olio di oliva, 100 g di latte, 200 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci, 650 g di farina doppio zero, buccia di un limone grattugiato, 5 uova bollite per decorare. Iniziamo lavorando le uova con lo zucchero. Aggiungiamo la buccia del limone grattugiato, il latte, l'olio e continuiamo a mescolare bene. Uniamo la bustina di lievito e subito dopo, poco per volta, inseriamo i 600 g di farina. L'impasto che otterremo sarà un impasto morbido, ben lavorabile con le mani. Prendiamo una teglia per ciambelle, la infariniamo bene e versiamo all'interno quasi la metà dell'impasto ottenuto. Livelliamo bene ed iniziamo ad inserire le uova bollite ben distanziate tra loro, facendo pressione per farle aderire bene. Prendiamo un poco di impasto e ricaviamone un cordone lungo e sottile. Ci servirà per la decorazione. Grazie per la visione! quando avremo terminato spennelliamo con il tuorlo d'uovo e spolveriamo con un po di zucchero inforniamo in forno preriscaldato a 180 gradi fino a duratura procediamo con la preparazione dei cuculi spolveriamo una spianatoia con 50 g di farina doppio zero e disponiamo su di essa l'impasto che abbiamo lasciato da parte lavoriamo con le mani l'impasto e formiamo un cordone lungo e cicciotto diamo la forma di una u rovesciata al centro disponiamo l'uovo e intrecciamo le due estremità fino a formare il cuculo spennelliamo sempre con il tuorlo d'uovo e spolveriamo con lo zucchero inforniamo in forno preriscaldato a 180 gradi fino a duratura